Benzina Ciccio Benzina Ciccio Benzina è lui il nuovo idolo del web grazie al videocasting del grande fratello mandato in onda dalla mitica Gialappas il camionista Alessandro di Greci questo è il suo vero nome ha raggiunto quota 280.000 fan su Facebook e molti di loro lo vorrebbero vedere all'interno della casa chissà se Ciccio ce la farà una cosa però sicura la sua popolarità è cresciuta come il prezzo della benzina